Ci troviamo su Viale delle Palme, dove ha preso il via il sempre tanto atteso Carnevale di Arco. All'interno del Casino Municipale si sta tenendo la prima edizione di Marcello Chef, una sfida tra dieci squadre di piccoli cuochi, circa una cinquantina di bambini, che si cimentano nella preparazione di bellissime torte decorate. I vincitori ovviamente saranno tutti i bambini, che sotto la guida di Marcello Franceschi stanno preparando delle torte veramente belle, profumate e colorate. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, vogliamo ai figli, alla loro creatività. Vabbè, vabbè, vabbè. Ma non ci mette pure le tiglie. Guardami. Qui invece sul Viale è un trionfo di colori di mascherine, con le giostre, il trenino, il truccabimbi, i palloncini colorati e una sfida di gincane col bici. Non manca più nessuno, solo non si vengono i due leoporni. Avvi! Larghi, larghi, la porta dentro! Seguite me! Larghi, larghi, andiamo dietro di me! Vabbè! Vabbè! Grazie a tutti.